Stiamo parlando in questo caso di emendamenti che vanno a definire la temporaneità delle opere che sono consentite dalla delibera per dare la possibilità ai concessionari degli impianti sportivi comunali di adeguare le strutture per affrontare al meglio l'emergenza e quindi tramite l'aggiunta di spogliatori temporanei oppure coperture che ovviamente al termine dell'emergenza saranno rimosse quindi sono appunto interventi temporanei che servono esclusivamente per affrontare questo periodo passeggero e che speriamo sia il più breve possibile quindi anticipo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle Grazie Grazie a lei consigliere Grazie a tutti